Ciao ragazzi siamo i Pantellas e benvenuti alla nostra prima Noi in tv I Pantellas in tv compilation Esatto, i Pantellas in tv compilation Quest'anno finalmente siamo riusciti a sbarcare su Colorado Con tanti video inediti Abbiamo pensato di creare una piccola compilation per voi Nel caso in cui vi posta persi la puntata Ma quindi partiamo subito E un saluto Pantelliano A tutti Ciao Buongiorno mondo Oggi è il primo giorno di scuola E finalmente rivedrò tutti i miei amici E tutti i miei compagni Ancora un'altra Ancora 5 minuti Dai ti pago Ti pago Ciao ragazzi Ciao ragazzi Buongiorno è arrivato tempo Ciao ragazzi 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 Ah ciao Dan Ehi ciao Jacopo Mi fai copiare i compiti Come i compiti Ma chi è quella? Kim Kardashian No Quella è Sara Sara Me la farei tantissimo Mamma mia Hai visto come ho beccato il bidello? Quella è Sara E' capitata Buongiorno ragazzi Oggi vi parlerò di quello che faremo quest'anno Buongiorno ragazzi Oggi Ragazzi Ragazzi Prima tu No 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 Prima tu No 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 ti presento la tua futura suocera Bella Madonna Ciao tesoro Wow, ma che bel ragazzo Grazie, signora Milf Cuccelo, ti presento la tua futura suocera Allora, cosa facciamo qui? Non si saluta? Cosa fa questo qui nella vita? Il pirla? Salve, signora Grammy Mi sembra pure incoglionito questo qui Quindi, che intenzioni hai? No, io vado un attimo in bagno, se posso, grazie E questo chi sarebbe? Il suocero Ma devi sposare, è già mia Pirla! Amore, vediamo un film Va bene, amore, cosa vuole andare? Ah, non lo so, decidi tu, dai Ah, è Suicide Squad? Perfetto, benissimo Fantastico, amore Amore, vediamo un film Va bene, amore, cosa vuoi guardare? Ma non lo so, decidi tu, dai Eh, Suicide Squad? No Mm, Civil War? No Eh, Batman Begins? No Titanic? No Tutti i pazzi per me? No Il diario di Bridget Jones? No Twilight? No Twilight 2? No Twilight 3? No Tutta la trilogia di Twilight? Eh, allora decidi tu, non so più cosa fare Ma amore, ma voglio che decidi tu Ma amore, ma che cosa ho detto? Oh mio Dio, amore È stato bellissimo Già E adesso me le fai le coccole Oh mio Dio, tesoro È stato bellissimo Ah, sì E adesso me le fai le coccole Certo, certo Ecco E queste le chiami coccole? Eh, perché tu quello lo chiamavi sesso Dai Amore, è un tronco di legno Mia nonna si muove di più Ed è invalida Dai Ti amo Anch'io ti amo Ho sonno Ho le mie cose Ho mal di testa Ho mal di schiena Ho la nausea Ho la febbre Ho un'altra Eh, oh, senti Non è che devi fare quelle facce lì E qua non si fa mai niente Andiamo, cara Non si fa mai niente Cioè, uno poi cambia Cambia C'è Da che ci sono? Manca poco Oh no, il carabiniero Costa Beh, Mastro Lindo Sì Oh, è uguale Non c'è niente da ridere Stava guidando col telefono in mano E' 30 km sopra i limiti consentiti Comunque era un'emergenza Eh, che è successo? Sta morendo un parente No, è che stiamo giocando a Pokémon Come ai Pokémon? Sì, c'è un Charizard lì nelle vicinanze Eh, nel boschetto dietro la casa là in fondo Ma lei non si vergogna? Ha 40 anni a giocare ancora ai Pokémon Ma la gente Vabbè, patente ritirata Oh, dove hai detto che si trova Charizard? Mi trovo la casa là Accendi la sirena Muovetevi un'emergenza Charizard, finalmente te catturo Mi raccomando, oggi ho occhi aperti, eh Eh, certo Dobbiamo fare il record di ritiro patenti Ho scommesso 37 ciopete con quelli della stradale Oh, guarda quella No, dai Signora Ferma Ferma Ferma, accosti Cosa c'è? Signora, ma cosa stavo facendo? Stavo fumando erba Scusi, come? Stavo fumando un cannone Un trombone Un gioico Me lo chiamate voi? Cannone, signora, come tutti Ma è impazzita Eh, lo so Ho spagliato buttarla Ma mi ha preso la para Eh, signora Mi faccio perquisire l'auto Tranquillo Ne ho ancora Quanti chili ne vuoi? Non mi vorrà pure dire che spaccia Certo Piazzo chili di gancia Sul mercato nero Minchia pure Ma lo sa che stiamo andando nel penale Andate dove mi pare Fighetti Io vado a raccogliere la Maria Signora, ma è scema Io no Ma lei sì Secondo voi Una signora dalla mia età Fa uso di Mariugana? Eh, c'è ragione, signora Che è il collega qua Io sono come in Zaghi Pippo Nooo I'm on a new level 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 Se vi è piaciuto Mettete un pollice in su E a 130 30 mila like Uscirà un nuovo video Vabbè Voi vedete questo coglione Anche su Colorado Giovedì prossimo Le 22.10 con quell'altro coglione E volevo anche dirvi Che uscirà invece il mio libro adesso Il 18 di ottobre In tutte le librerie Potete trovarlo anche qua sotto In pre-order Quindi compratelo E io verrò personalmente A casa di uno di voi Anzi di tre di voi A consegnare il libro E a mandarvi a studiare Anzi ragazzi Se volete aiutarci In questo progetto Potete fare un'altra cosa Potete copiare il link E condividerlo anche Sulle volte le batte che penso Scrivendo Mamma compramelo così Almeno mia madre È contenta No Sei contenta Condividetelo immediatamente Condividetelo E ci vediamo Presto Ma anche no Cioè ragazzi Devono vederci Buone vacanze di Natale Non ci vediamo E vi saluto È ottobre Vi è un po' Vabbè ragazzi Il video finisce qui Ci vediamo prestissimo E un saluto Pantelliano a tutti Ma vieni qua Che ti devo chiedere una cosa Cos'è che c'è? Se Se siete Se siete arrivati Fino a questo punto del video Commentate con Pentole Ma cosa siamo Mastrota